questo non è quello no no quelli sono gli fps ma è più in che devi mettere no ma adesso ho altri due numeri io però no ma quelle sono quelle sono le immagini sono gli fps più alti e quelli più basso dove andiamo sempre lì andare in foresta non ti volete no no cambiare piegata il video no tutto l'ora noi preferiti vai ecco stavolta ci stanno senti bene non si ma non devi continuare a spegnere e accendere il microfono in due secondi perchè da fastidio eh soffia un ragno no macca da roba e dopo questa mi vado a fare la doccia eh vabbè dai dai ci hai bisogno da che ne vippo ora certo che c'è che c'è come faccio a scendere senza morire con i piedi con i piedi eh con i piedi lo so io con i piedi a no ma scendi dall'esterno dall'interno eh dall'interno dall'esterno in che senso eh di qua vedi che c'è guarda di dove sono io se vedi di questo lato qua c'è qua un coso qua se se cadicono e muori qua senti che roba oh cos'è stato il sito in aeroporto chi io no lo so chi io eh però lì c'è ma io non sono ma non ch'io cos'è cos'è no Dio santo ma chi è? non c'è qualcuno eh porca puttana grazie no 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 tu devi mutare bro perchè ok fai un casino della madonna santissimo non c'è non c'è non c'è allora vado a morire chi è? ma qua c'è l'arma esotica così qua c'è da figlio eh vediamo un attimo qua è su davvero fammela fare però scusa anche a me no? dov'è? ah potrei pigliarlo te eh eh ma che ne so io che c'è non so neanche te eh sì tanto devo solo puntare quindi spara scudi non è che sia male neanche tra gli altri è detto che sia questa che mi manca vediamo eh vabbè non è detta no potrebbe essere l'altra no potrebbe essere no 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 infatti no me l'ha data infatti vedi eh no me l'ha data vuol dire che l'altro che mi manca eh qual è l'altro? no 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 con l'odore è compreso di 5 vedi eh eh ma detto che è con l'arancione ma dove è con l'arancione? l'arancione? ma qual è quella l'arancione? va tutto dirlo so no non d'ora eh ragazzi non so se lo sentite però no no me l'ha data quindi vuol dire che ma me l'ha data me l'ho già fatto allora questo e adesso sei come me uguale eh sei a sé ci manca lo stesso dove manca me a me forse manca d'oro forse me però forse però boh vabbè ci manca d'oro non ci manca d'oro che cavolo dici? questo è scemo non riesco a dire non c'ho delle armi comunque ne ho solo una fra il tuo conto come solo una se ho un'arma e un'arma solo non fai avere un'arma solo vabbè perché ho dovuto farmi di scudi prima perché se aspetto te ti porti via tutto allora era rimasta solo un'arma ok e un arco basta che ho solo una freccia eh comunque sta schiena c'è un fisico pazzesco anche perchè ho guardato la live e adesso è passato tu c'è qualcuno di qua? senti devo sparare eh? si è sinistro lo so però non ci vuoi queste armi qui non so se mi conviene ma mi sparano attraverso le cose no ma son botta allora se mi sparano così eh ma te uno l'ho visto qua eh non so che son lì se lo vediamo eh se me mi devo avvicinare perchè in quest'arma non li prenderò mai da qua no 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 ma cosa che stanno facendo no verranno in safe prima o poi no o no ma dici che son botta non lo so non è detto eh l'ha fatto doppio muro ha fatto doppio? si si ma che ahhh mi ha servito che era? ma quello sta scapando quell'altro però ma che fai uccidete uccidete botta c'è un altro lì e ma vada su prima o poi no o li uccidete voi non so a merda non viene da su mi sa che viene da eccolo la ma vada non è un botto questo eh si è un botto ma ma cos'hai lasciato? no ma vada no ma vada no ma vada non c'è mai però faccio un kit altra roba che poi è vero ma c'era il coso qui è un po' più eh scudissimo no ma voglio pigliarlo questo ma cosa che lascia adesso andami da qua a lasciare eh non 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 posso mai creare un cazzo io non ho capito perché a volte non c'è il m4 verde te lo fa far blu e a volte invece no se non capito perché ma voglio te lo fa fare m4 verde tu magari c'è di m4 verde no te lo fa far blu ma vabbè ma quattro mai te li fa potenziali ah beh sì mi ricordo non c'è far blu ma no ma tu devi per fare blu devi vivere quell'altro che fa cagare l'erdo che lo so però a volte buono non so no non è possibile non ho mai visto la roba finch che è possibile mi stai confondendo eh no eeeh cavolo e cos'è avanti no ma dobbiamo andare perché siamo morti eh ribiotera parte qui va 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 eh forse ho fatto mare per entrare un po' qua adesso servono le cose per fare AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH no 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 non me l'ha dato il ciclo no ancora lì sei tesoro io sto guardando dopo vengo giù per la discesa dritta e sono a posto Poi ci sono le barche Se vuoi prendere queste barche qua Magari Devo notare Assolutissimamente No ma notare che è al contrario La corrente è al contrario Deve andare più lento Va bene Non mi serviva Non c'avete niente davanti voi Ve lo dico E anche io mi sa Non c'è niente davanti Non c'è niente davanti C'è un po' c'è niente C'è un po' c'è niente C'è un po' c'è niente Non c'è per l'amai C'è un po' c'è sguardo sono qui indietro spero un po' da come corre, andiamo a se mi sparo sono due però ma ancora mi ammazzano ma è Aurelio che sta sparando ah lo so ma ma c'è gente lì, hai visto? dietro le messe ah vuoi morire stanno sparando a devis sono scarsi quelli forse oh perchè mi fa oh no me l'ho lanciato oh vaffanculo ho uno, due lo battute forse io credo che ce ne sono qua non lo piglia dai perchè non lo piglia? no non ci credo no ho massacrato ma non muore mai ho paura di ho battuto eh no è quasi morto quello lì è un colpo di evitare no ma che cazzo no andate di là dove che vai? di qua andate no quello sicuro è un colpo di evitare ah no ah ma non le schede fa quel che può servire bello schede è bello che è su Aurelio si uno si chi è? oh ma c'è ancora gente ma quanti sono ancora? l'altro due ma si morse di quella vedo dove stavo ancora no è però non due che possiamo rimanere non possiamo rimanere dai ormai o no è tranquillo com'è ma c'è il drop dovessi qualcosa di d'oro davvero il polomero cioè dai attacca 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 hai bisogno dai vissi perchè fai la fine del euro ma io credo che c'è minaccia 2 so che ce l'abbiamo da che se non so che salvo come eccoli qui dove fuori quindi due oh ma no no ma hanno visto addio mi uffia cadere le piglia con sta arma de merda ok ahhh la massacra la batta da quello la vai vai approfittane ma non mai più ma ti colpo ti colpo ahhh mamma mia ancora uno dici che è finita eh vabbè c'è il mio 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 motoro no allora fammi appuntare no 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 ah ecco perché non ce l'abbiamo che manca cioè non c'è il colore che manca mi ha detto io prima cazzo tutto c'è ma io vado eh ah nessuno sa il colore che manca no vabbè vedete dov'è questo qua ehm secondo me è fortissimo eh forse è qua in mezzo eh chi che spara? ci vuol' uno che spara eh vedete che spari eh eccolo vabbè fa ancora una roba volevo parla è un bot certo volevo parla a sparare e a creare però non so se ce la faccio dov'è ma non mi crea però eh ah ah bravo figa bravo figa Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info